Non è lo spezia di Gotti, non può essere mai lo spezia di Gotti, è lo spezia con Gotti semmai, che in punta di piedi, con grande umiltà, cerca di venire a dare un suo contributo di idee, di passione, di lavoro. Mi auguro una squadra che possa dare soddisfazione, sia dal punto di vista dell'atteggiamento, un impegno che non deve mancare, questo tipo di cultura del sacrificio e della voglia di andare oltre i propri limiti, senza perdere di vista alcune delle connotazioni che ci sono state in questi due campionati di Serie A, che sono coraggio, impegno, cose belle da mantenere, credo. C'è qualche giocatore su cui punta particolarmente? Abbiamo una rosa a disposizione, giovane, molto giovane, con parecchi ragazzi che secondo me hanno dei margini di miglioramento da verificare. Alcuni altri che magari vengono da un anno dove per vari motivi sono stati penalizzati, si sono penalizzati Inzolà su tutti, Inzolà che è stato il capocannoniere della squadra due anni fa e che ha avuto meno spazio quest'anno, Burabia che ha avuto poche occasioni di giocare, insomma, giusto per fare due nomi. C'è l'apertura da parte mia per verificare che possono essere dei nuovi acquisti. A quale modulo guarda? Questa cosa sarà uno dei focus di questi primi 50 giorni di lavoro che precedono l'inizio del campionato. E lì cercherò di verificare nella quotidianità se le idee che mi sono fatte riguardo al sistema di gioco, riguardo al posizionamento dei giocatori in campo, riguardo alle catene di gioco, a mettere chi mettere vicino a chi. Se tutta questa cosa che oggi ho solo immaginato dall'esterno, il campo me la restituirà allo stesso modo. Guardi che ci sono state diverse anomalie in questa cosa, nessun tipo di importanza riguardo all'aspetto economico. E già è una prima anomalia di un certo tipo. Abbiamo discusso con il club senza intermediari, procuratori, avvocati. La discussione è durata tre minuti. La grande gratificazione che io ho avuto è la sensazione che il club cercasse me come allenatore, che cercasse me come persona. Hai chiesto qualcosa? Non ho fatto nessun nome specifico. Intanto ho a che fare con un club che ha fatto un percorso, che ha portato alla costruzione di questa rosa di un certo tipo. e che ha fatto grossi investimenti l'anno scorso per mettersi nella condizione di poter affrontare un eventuale blocco del mercato prolungato. E quindi sono già state fatte tante cose. Peraltro conosco Pecini da tanti anni e riguardo alla conoscenza dei calciatori ne sa più di me. insomma. Grazie.